Un locale che ha una grande storia, 1610. 1610 era un palazzo, Palazzo Martinengo, a Brescia ce ne sono tre, queste sono le scuderie del palazzo e per tanto tempo sono rimaste chiuse perché la corte d'appello che è nel palazzo non ci dava il permesso, poi finalmente sono risultati di fare un bel ristorante che adesso le belle arti ci invidiano, ci tengono proprio da conto. Ezio Colombo è lo chef che cucina con quale filosofia? Con la filosofia un po' della tradizione, Bresciano ama la tradizione e noi gli diamo la tradizione, non trascurando anche qualche piatto tipo fegato d'oca, delle cose di oltre Alpe. Bene, grazie Ezio, adesso andiamo ad assaggiare. In un ristorante come questo non può mancare nemmeno il tartufo bianco e di queste dimensioni. In un ristorante come questo non può mancare nemmeno il tartufo bianco e di queste dimensioni. In un ristorante come questo non può mancare nemmeno il tartufo bianco e di queste dimensioni. Grazie.